Un ballo per celebrare la vita, il giorno della memoria per i sopravvissuti della Shoah e anche la danza. Lui almeno per Eva Fai, di novantenne ebrea ungherese, sopravvissuta ad Auschwitz. Domenica scorsa si è esibita in un teatro di Berlino, in occasione della giornata mondiale della memoria che si celebra il 27 gennaio.